La nostra azienda fa parte di quelle aziende che non si sono mai fermate durante il lockdown in quanto facevamo servizi per chi trasportava bene di prima necessità, quindi tutte le parti legate all'assistenza, alla fornitura di pezzi di ricambio hanno continuato a lavorare seppur a ranghi ridotti. Comunque da subito mandando anche un questionario a tutti i nostri oltre 70 collaboratori ci siamo chiesti come avrebbe impattato questa crisi sulla nostra azienda, sul nostro settore e cosa dobbiamo fare immediatamente per reagire, proprio per cercare di cavalcare il momento e non di subirlo oltre allo stretto necessario. E quindi chiaramente abbiamo attivato già da subito una serie di azioni che vanno in linea con la digitalizzazione, l'interconnessione e la rapidità di comunicazione, cercando appunto di dire mi voglio rivolgere ai miei clienti che sono a casa e che sempre di più comunque cercheranno anche online le proprie informazioni e possibilmente fare servizi per andare io, tra virgolette, a casa loro piuttosto che farle venire presso la nostra azienda. Secondo voi dopo questa emergenza coronavirus cambierà il modo di lavorare e se sì come vi state attrezzando per il futuro? Secondo noi cambierà proprio un approccio quindi sarà necessario fare cose diverse rispetto a prima soprattutto farle in maniera diversa tant'è che noi abbiamo coniato uno slogan che è un mondo nuovo che ha già cominciato ad abbinare tutte le attività che facciamo. Per esempio abbiamo attivato un e-commerce aziendale in cui vendere tutti i servizi che fa l'azienda dal ricambio al veicolo usato all'assistenza, anche perfino arrivare al veicolo nuovo e questo sarà online tra fine mese e inizio giugno. Abbiamo individuato all'interno dell'azienda la figura di digital manager che ha cominciato a occuparsi di tutte quelle che sono le parti social, le connettività, i siti e quant'altro. Altre due attività importanti che vanno nell'ottica appunto di dare un servizio al cliente possibilmente senza far stare dalla sua scrivania noi lavoriamo solo con aziende quindi con clienti che tra virgolette non hanno tempo da perdere. Sono i servizi pick up and delivery cioè andiamo a casa del cliente a ritirare i suoi mezzi per effettuare la manutenzione e gli consegniamo il camion o il furgone già sanificato. In più un'ultima reazione che vi volevo raccontare è quello dell'usata a casa attuale per cui il nostro settore usato è in grado di consegnare a casa del cliente su tutto il territorio nazionale qualsiasi tipo di veicolo usato e con il nostro servizio soddisfatto e rimborsato può tenerlo 7 giorni e poi decidere se restituirlo. Quindi il nostro cliente potrà comprare un veicolo usato come qualsiasi altro acquisto online proprio per andare nella direzione di una crescita del trading online che per noi diventerà sicuramente importante e strategico.